io sono francio e siamo qui in questo nuovo vlog, andiamo partendo per il mare buongiorno a tutti ragazzi, mio padre non c'è ancora, neanche mia nonna, quindi andiamo a prendere un buon ballone alla crema, mio fratello ha avuto uno specifico inconveniente dovrà usare la sedia a rotella, cosa hai? cosa vuoi? perchè? davvero la devi usare? mi dispiace ragazzi ecco l'arrivo importante di questo nostro vlog, mia nonna, guardate la fiera ragazzi che se ne frega, che cozzo mette fuoco, ciao nonna, ciao nonna, aspetta abbracci, addio te ne vai di già? Siamo qua da qualche giorno, ma non vi ho fatto vedere nulla in questi giorni perchè non c'era nulla da farvi vedere, e poi domani c'è il mercatino, come gli anni scorsi, c'è mio zio, la novità di quest'anno è che c'è mio zio con suo figlio, ovvero Federico, yeeey! poi niente ci siamo sempre noi qua, che mangiamo la granita, hanno aggiunto tre nuovi gusti della madonna veramente, hanno aggiunto il gusto caffè, il gusto cocco, e poi cosa? e mora salve ragazzi, allora siamo qua quest'oggi, siamo davanti al bidon dei monnezzari, e poi niente adesso andiamo a prelevare il nostro zio, ah dopo ragazzi faremo anche la partita a biliardo nooo, li prendiamo? vabbè si faranno più partite a biliardo voglio lo gare qua ragazzi siamo alla casa del nostro zio bella zio, ciao zio ciao ciao Salute Youtube Bye 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 Luce Salute Youtube Salute Salute Fai fest dai Salute Ciao Stai facendo un video Sì La luce è un banano Bella gente Siamo qua al mercato del mercoledì Sandra Ancola sarà già fin I due cetoni che mi ha regalato nostro zio Cioè non li avevamo presi Poi alla fine ce ne abbiamo tutti due a testa Lo vedete 300 punti eh Figo Che cozzù Bella 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 E' di 300 punti Madonna mia Sì 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 Crema E cioccolato Buona Sta di fresco Scusate per la cronna Ma Guardate Non sembra tipo Un uomo nero Che si è fatto Le mesh I capelli biondi Guarda qua Dietro Stessa Tipo un ciuffo Datta lì indietro Cioè ragazzi E' Una persona Altro che forne Giocate a FULL OUT Gattino E' bellissimo Fa dei suoni strastrani Oh Micio Dai Ciccelo Chiero Chiero Ciao dove siete? Ciao dove siete? Buonasera ragazzi Siamo qua a Punta Marina Oggi è il 13 agosto Ovvero il compleanno di nostra madre Potete Ci raggiungeremo Osservare Siamo qua con Nostra madre Buon compleanno mamma Auguri 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 Federico Ora andiamo a mangiare In una pizzeria Qui ci sono le offerte Tipo Pizzerà Supriamo mangi quanto vuoi Per solo 8 euro Ecco Ragomandato E' raccomandato E' raccomandato Eccoli Ciao zio Saluto Ciao Cugino Ragazzi, sono arrivati, mi viene male, però no, scusami. Come vuoi fare? E qui e là. Non rompere. Papi perché devo fare la recitazione e devo mettermi la mano davanti così? Le ruote. Ah? Madonna. Scementola. Eccole qua. Ragazzi, quindi assaggiamola subito. Funghi e salsiccia. Vizio molto buono. Un po' bello. Vabbè, sì. Possiamo mettere il salato piccante sopra. Sì. Andiamo un po'. Pizzica! Buono, non pizzica neanche un po'. Un po' sì. Nonna! Ciao! Ma no, ma è brutta, come sei brutta. Che vai? Nonna, ti vogliono bene. Saluta YouTube. Ma dai Luca. Ma dai Luca. Guarda che domani. Lì lo faccio. Guarda che domani. Ma dai. Eh. E' già diventata famosa con un video. Poi. E' importante perché è fatta vera. E' detto qui non posso. Qui non posso. Qui non posso. Qui non posso. Guarda, volevi, guarda, non posso. Perchiamo questo. La serata sicura. Va? A tua madre? Perchiamo poi poi! A tua madre? Perchiamo. Perchiamo in una città come il la feste vorrei sempre. Perchiamo. No O M A M A N E Per arrivare una nostra amica direttamente da Bologna, oggi la mangeremo fuori probabilmente con lei, quindi ve la facciamo conoscere Salve gente, tralasciate i miei capelli? Cioè sono appena stato in mare per due ore con la mia arrivata amica E c'è veramente un mare bellissimo, cioè guardate qua, proprio fiero con delle onde incredibili e altissime Quindi cioè ragazzi, sinceramente da dire, veramente è un bellissimo mare, ci sono anche le nuvole molto belle, guardate Vai in fondo Oggi è proprio una bella giornata ragazzi Ecco qua gli ospiti Ma non ti fa il caso Filippo? No no no, niente video Come no? Entri nei miei vlog? Vai 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 Saluti Youtube Senza gli occhiali Salve Ecco qua Ora dopo si va a mangiare qualcosa Mangiate voi diventate voli Vorrei farvi notare quanta gente c'è Bella frittura Guardate quanta gente c'è Sono io, il centro dell'attenzione, salutatemi Ciao 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 a tutti Ciao Ciao a tutti Ciao 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 Youtube Ciao Ciao C'è un po', c'è un po' di C'è un po' di Sera di nuovo Puoi vedere che è un piatto Oh Oh Non ti mettiamo Dai C'è R7 Mangiali Angelli Svoto Chatellez Fior automat Ciao a tutti, sono appena uscito dalla palestra e devo ammettere che è stato veramente faticoso, ciao. Ciao a tutti ragazzi, siamo al Monza, siamo a Serbia, siamo qui per guidare un go-kart. Seconda volta, seconda volta, andiamo per la seconda volta. Questa è buona, questa è buona. Ciao ragazzi, oggi è l'ultima serata che siamo qua al mare, volevo inaugurare questa ultima serata con una bella fetta di anguria. Ciao ragazzi, buongiorno, stiamo sgomberando per la partenza, stiamo sgomberando per la partenza e tra poco andiamo a mangiare fuori a Liberty City con mio padre per l'ultima volta. Lo c'è, è vero. Ti muovi? E poi dopo si andrà a casa e potremo tornare a giocare tutte le cose che avevamo e soprattutto il nostro gatto. Quindi, ciao ragazzi, a dopo. Sì, è vero. Posso per l'altra volta. Già è vero. Sì, è vero. Sì, è vero. Sì, è vero. Italca vine Pistella grandiata che è arrivata adesso. Me lo ricordo, cosa è successo. Buono o no? Molto buono per questa. No, ma è stoppata. No, ma è stoppata. Perché le prende solo uno? No, ma è stoppata. No, ma è stoppata. No, ma è stoppata. No, ma è stoppata.